Ma hai promessa l'intervista a fine partita che fosse andata bene, Eugenio come è stata oggi questa emozione che hai provato da vincere il derby? Beh è sempre una bellissima emozione, siamo contenti, siamo contenti di aver vinto contro una squadra che forse è un po' più esperta di noi dal punto di vista dell'età e anche dell'esperienza in questo campionato però abbiamo dato continuità alla cosa più importante che è la partita con Piazza Almerino che era una cosa non scontata e siamo felicissimi di questo, io per primo sono molto molto contento del percorso che stiamo facendo quest'anno ad mai ora, non posso dire altro Continua ma anche cresce con un Arcidiacono che oggi è iniziato benissimo, un Arcar, rispetto alla scorsa stagione l'hanno fatto da così a così Sì assolutamente, ma Federico, Eric, ma oggi una menzione speciale anche ad Andrea Loiatono che sta poco bene ed è entrato nel terzo quarto ed è stato subito decisivo con una tripla, con un canestro buono Insomma veramente oggi peccato, personalmente peccato perché sono stato un po' martoriato dai falli perché avrei voluto giocare di più ma l'importante è aver vinto, mi sono felicissimo di aver vinto E ora come sarà? Io ho già il giro di ritorno perché per me abbiamo quasi fino al giro di andata Per noi però il giro di andata ancora non è finito, abbiamo partite importanti, c'è Fortitudo, c'è la Vis, sono già queste banchi di prova importantissimi Fortunatamente arriveranno anche in casa Per il giro di ritorno il nostro obiettivo è arrivare ai playoff, sicuramente Sul piazzamento noi più avanti arriviamo meglio è, a me piace dire che questa squadra è in continua crescita Quindi come tutte le squadre giovani ci possono essere momenti di up e di down ma questo è un bel punto di partenza Grazie mille Eugenio e complimenti per la vittoria Grazie